Bene, siamo arrivati alla finale per la programmazione della campionessa assoluta delle fattrici di razza murgese anno 2012. Abbiamo in campo tre soggetti, la 178 Brunella di Valenza, del signor Gian Petruzzi Pasquale. Abbiamo la 189 Tolosa Fusillo Paesiello, dell'azienda Enricola Proce Grande. E abbiamo la 173 Brunella di San Paolo, del dottor Basile Francesco. Bene. La terza classificata al campionato fattrici anno 2012 è il soggetto con testiera numero 178 Brunella di Valenza, del signor Gian Petruzzi Pasquale. Un applauso. Grazie. Mentre Abbiamo Prima classificata Campionessa assoluta fattrici di razza murgese per l'anno 2012 è il soggetto con testiera numero 173 Brunella di San Paolo, del dottor Basile Francesco da Martina. Brunella, figlia di San Paolo, del dottor Basile Francesco da Martina. Brunella, figlia di Otello di San Paolo, dell'Ipsia, famiglia paterna Araldo delle Morge. Seconda classificata è Toloso Fusillo Paesiella, dell'azienda Agricola Proce Grande dei Fratelli Fusillo. Un applauso agli soggetti presenti. Stesemente, un giro del ring. 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 Grazie.